No, non è così, dai. L'unica cosa che posso fare è quella di essere sinperfetti. Voglio bene, amica mia, Fabiola. Fabiola, ci aspettiamo presto. La comunità della famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia. Grazie, ragazzi, ci vediamo a Poligno il 2 agosto. Ti aspettiamo a vero che siamo a Poligno. Ciao! Io non sono inizio, sono inizio, ma tanto di giusto, sempre andando, L'orato, Valeria, L'orato, Comiglia Carunza, sono gli amici che iniziavano prima, che loro, scusa, facevo a venire. Ci sono inizio, inizio, e inizio, 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 inizio. Bene, facciamo la libertà, sulte, Valeria, L'orato, Puntino, Pescara. La successione che c'era è un piccolo gesto che fa come fuori, secondo me, lo solito che ne bisogna. La pazza, i nomi, i postati, scritto, nomade. Ma poi che tu nomi vi si vincente. No, non per te, non per te. Sì! Non per te! Sempre ciò che ci c'è, un psicista. Questa va a perdere la sardegna. Eccola lì, ecco. Nei quattro mori. I nomi non ci toccano il cuore, Francesco, Marco e Roberto, Roma, grazie. Patrice, Paese, Paese, non è una per me, sempre presente. L'ora di nuovo, l'ora di Francesco, Rita, Cristiana, D'Arfabello, l'amenesimo, cinque pastore, con la Patrice, Siria e Paola, un'aniversità. Poi senti il figlio, che ti vuoi dire? Allora, era per Simone a Paola, signora? Era per Paola a Simone? Sì, permissima. Questa è la bandiera, questa è la bandiera, signori, signori, questa è la bandiera della pace. Carino, anche se oggi non sono qui, personalmente, ci sono quelle cose, e ci tenevo a dire che comunque siete un'emozione, gioia, divertimento, sorrisi, grazie a voi e alla vostra musica, per lo stesso, per l'altro, per il fine ormai, quello ne metto. Grazie mille, sono presto a vedervi. Chi è, se massimo, fai schifo, lì è preciso, chi è che volto. Vedete che non ti ho fatto. Ah, scrivo così perché quello ho scritto io. Ah, allora, se lo sentite, io posso guardare lo scrivo. Va bene? Ciao, ciao, e sempre sono... Ciao, ragazzi! Grazie, Michele, Lucio, 12 anni. No, ma i nostri cuori, un'altra volta, se lo sentite con voi, ovunque, no, ma il cuore, suono, tranquillino, per un già, e io mi sento, Michele, eh, lo sono le siste. No, no, perché, ovviamente, lo sono messo sugli schiari, io sono, sì, sono, sì. No, no, ma i nostri cuori, si sono, sì. No con partecipazione ada, corrompura con l'amore, e poi diventa un'orale di un signor pennile, che abbiamo le compagni. Abbiamo spiegato il nostro viaggio con l'arattivo di chi è contro l'ingiustizia e con l'amore di chi.. ...percorre, chi o no per voi regolare lo spirito amore. Sempre! Man, ma ne siete fatte veramente british, eh. Sempre! Man, ma nina! Piochino, Sf! Cavalli! Sf! Non sarò fuori vivo, parte con voi, sempre l'anno di Valentino, Alessio, Milbo, La Piccola Giugna! Ah che triste sono, lo stesso Signore, lo stesso, non c'è che mi voglia io! Non c'è quel po' che esserio Grazie per la visione Non c'è il nostro canale, non c'è il nostro canale, ma non c'è il nostro canale. Non c'è il nostro canale, non c'è il nostro canale. Non c'è il nostro canale. Non c'è il nostro canale, non c'è il nostro canale. 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 Non c'è il nostro canale.